È una tariffa puntuale che continua a far discutere. La Tarip, così è chiamata, è una tariffa corrispettiva puntuale per il servizio di gestione dei rifiuti. La fattura emessa viene calcolata in base ad una componente fissa, una parte variabile calcolata e una variabile misurata, ma sono molti cremonesi scontenti. Alcuni di questi hanno affidato le loro lamentele ai social sul gruppo Facebook Non sai Cremonese se, dove da qualche giorno si susseguono commenti. Ma anche in centro a Cremona sono molti quelli confusi o non contenti del servizio. Auspico che comunque il comune possa rivedere i punti di raccolta nei vari quartieri, perché ho notato che in quegli quartieri i sacchetti dell'immondizia comunque non vengono ancora lasciati. Penso che possa essere decisamente migliorato. I costi ci sono, nonostante che si dica facciamo la differenziata, eccetera, e si fa, i costi non diminuiscono. Quindi è un interrogativo che mi pongo. Oltre ai costi, alcuni lamentano una confusione nelle spiegazioni. Non è tanto informarsi di quanto è l'aumento, è capire come. È tutto lì il problema. Non riusciamo a capirlo. Sì, io mi sono riservata di leggere attentamente quello che è l'accompagnatoria dell'avviso della tassa per riuscire a capire esattamente in che modo è cambiata. Nel frattempo, Linea Gestioni ha sottolineato ancora una volta l'obbligatorietà per il conferimento del secco dell'uso del sacco o contenitore con il tag. Dal 1 giugno, le postazioni per la distribuzione dei sacchi in via Postumia sono però raddoppiate per aumentare l'efficienza e la velocità del servizio.